Sì, ma dobbiamo parlare tutti, anche quelli là sopra, negli spalti, quelli là sotto, quelli nel porto, nelle sedie, azioneci da queste sedie, signor, che vengono tardi, tutti insieme alla piatta! Sì, ma dobbiamo parlare tutti, anche che vengono tardi, che vengono tardi, Sì, ma dobbiamo parlare tutti, anche che vengono tardi, 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!